Laetap tendenzialmente un gioco dove di gestire il tuo ristorante, migliorare il ristorante man mano che vai avanti e cercare di guadagnare sempre più clienti, rendere il ristorante sempre più bello eccetera eccetera Super cotta, poco cotta? Va bene Tieni i piatti Poco cotta, prego, grazie mille e prego anche a lei Avete scelto signori? Easy, buongiorno prego, grazie mille Allora una poco cotta e una medio cotta La gente è fuori che aspetta perché non è pulito Ma lo so, sto andando, sto finendo i pulipiatti Stiamo rischendo di perdere, cioè non sto panicando Guarda, tieni, vedo uno di questi e sono a posto Gli ho già dato uno Gli devo un altro e sono tutti buoni Sei una bagliaccia e ti spacco le ossa Prima stella Stellina